L'artista esistenzialista buona serata a tutti, questa sera una quartina onirica, quindi vissuta in sogno, quello che è un sogno ricorrente, anche se c'è tanta metafora dietro tutto ciò, quindi delle rappresentazioni diciamo un attimino di ciò che magari potrebbe essere un percepito un po' più intimo, un condensato intimo e magari con delle sfumature un pochettino più particolari, come potrebbero essere anche delle sensazioni acclarate di tanti di voi che possono fare dei sogni ricorrenti, magari anche, non necessariamente dico destabilizzanti perché poi è brutto destabilizzanti, però magari rispetto a ciò che si percepiscono all'interno di lui, rispetto a ciò che si vive, rispetto magari a un minimo di sensazioni, di riflessioni profonde, probabilmente di paure, fate voi, avremo voluto di vederlo, di snocciolare assieme, accuratamente. Quindi una quartina poetica onirica, in sogno. Ho passeggiato per anni su un vecchio pontile che scricchiolava oltremodo ogni qual volta i miei pensieri cupi baciavano quelle funere acqua e blu cobalto. L'anima mio, ozioso e tremante, aveva setose vesti e cru e un asfittico viso biancolatte. Un incubo ricorrente graffiava le mie cerule e pupille inquiete. Su quell'odioso pontile, ovvero una donzella androgina, dalle fluttuanti vesti nero pece, riccioluta chioma, biondo cenere, che puntualmente mi accarezzava il viso per poi trapassarmi i cuori e arterie da parte a parte. Mi ripeteva in tono sommesso, di gemere in silenzio, e poi mi copriva la bocca sorridendo e appoggiando continuamente la sua fronte alla mia, assino a sussurrarmi, piangendo, prima dell'ultimo fendente, mi raccomando, sii forte. Fa riflettere tanto. Sembra un déjà vu, un film già visto per certi versi, un continuo rewind di sensazioni, stati d'animo, un attimino accantonati, raccolti le conditi. Quindi una persona che passeggia, passeggia verso una strada, che può essere una strada futura, o una strada già percorsa. Possiamo vedere questa bivalenza, questa doppia veduta per certi versi, quindi bisogna un attimino vedere da quale punto di vista noi vogliamo affrontare le cose, se guardare a un discorso di prospettica futura, oppure per certi versi, abbiate pazienza di un po' di stanchezza. Oppure magari a tutto ciò che è, qualche cosa è legato magari ai ricordi trascorsi, ai ricordi sommessi passati. Questo vecchio puntino è un po' ti lo ripeto malandrato, che scricchia continuamente, ma soprattutto lo scricchio lì è un po' anche deputato a tanti di noi che hanno paura, che non fanno le scelte, quindi scricchiolano continuamente. Poi scricchiole oggi, scricchiole domani, diventi un pochettino un buffer, e quindi friabile, si frantumi all'eterico contatto. Quindi questo pontile scricchiolava tanto, oltremodo, tutte le volte in cui passeggiavo su quel pontile, passeggiavo io e la mia anima, i miei pensieri, quello che volete, e quindi questi pensieri erano pensieri cupi, pensieri tristi, quindi asfitti, cenziosi e quant'altro, e questi pensieri baciavano le funere acque, blu covalto, quindi queste acque diciamo blu notte, perché è un qualcosa che ha a che fare con i bassi fondi, con il tetro, con le zone un po' più nascoste, in vere conte, per certo, della nostra esistenza inquieta. Quindi voi immaginate un pensiero cupo, quindi uno stato d'animo molto triste, diciamo ansioso, che bacia un'acqua che oltre a seblute anche funerea, perché poi è anche in ricordo di trascorsi di poco piacere, quindi un immaginare che diventa orripilante, effetto slipiollo per dire. Questa anima, l'anima mia, era un'anima oziosa e tramata, un'anima oziosa di chi non ha voglia di pensare, di fare nulla, che sta lì, in, diciamo, tediante, ecco, diciamo, voglio dire, in perenniozio, scusate, in perenniozio, quindi in aspettativa, ed è tremante, tremo come una foglia, perché ha paura, perché non conosce il futuro, perché non riesce ad affrontare il futuro, e quest'anima ha delle vesti in seta, vestite duse cru, quindi un colore vaniglia, eccetera, eccetera, questo giallino va un pochettino a staccare rispetto al viso biancolato, un viso perlaceo, un viso molto asfittico, bianco e maciato, e quindi l'incubo, l'incubo ricorretto, questa situazione è poco gradevole, poco piacevole, graffia, quindi tende a scorticare queste pupille inquiete, pupille azzurro, ogni linchiete, c'erano le pupille inquiete, cambia poco, quindi che tranquille non sono, su questo pontile odioso, perché? Perché questo pontile odioso, ripeto, è che possiamo fare un riferimento al passato, facciamo un riferimento anche al futuro, è odioso perché comporta scelte magari tremendamente dolorose. Vedi questa donzella, non riesce a riconoscere che possa essere un uomo una donna, dà l'idea di una donna mandrogina, quindi tendente verso l'uomo, e quindi mascolina, misogina, fate voi, la chiama il biondo cenere, quindi c'è questo biondo cenere, questo biondo che tende un po' a spiccare sempre, vedete se sembra questo contrasto sottile, con le vesti nero pece, quindi vesti scure, che sono delle vesti proprio fluttuanti, cioè di soffi di vento gelto in questa nottata sinistra, tetra, orripilante per certi versi, e queste vesti flutturano continuamente, quasi come se fosse una sorta di angelo della morte per certi versi. Si avvicina in silenzio, tono sommesso, pacato, e mi dice di gemere in silenzio, di lamentarmi quanto più in silenzio possibile, perché nessuno ti debba sentire, le tue sofferenze sono le tue, tienile per te. Mi copre la bocca, quasi un senso di occlusione a quello che è uno stato d'animo, a riportarlo, diciamo a portarlo dai meandi del proprio animo al mondo esterno, quindi quasi un non voler che venga snocciolato, e quindi questo gemito in silenzio sommesso ti copre la bocca, perché ripeto non vuole che queste cose escano, si fa un sorriso, questo ghigno beffardo per certi versi, come chi crede di essere. ex parte sarà la cosa di stare, di andare tremendamente, oltre di saper gestire, perché capisco che è l'angelo della morte, ma non so fino a che punto poi anche l'angelo della morte è capace di gestire, se ti deve trapassare, portare all'altra parte, che lo faccia pure, ma non con tutto questa retorica, a buon mercato, quindi si appoggia, ecco, copre la bocca, sorride, appoggia continuamente la propria fronte alla tua, quindi una condivisione, uno stato sofferenziale, due fronti che si baciano, una condivisione sofferenziale, sino a sussurrare, quindi in tono sempre pagato, proprio piangendo, quindi c'è una compenetrazione emotiva, che è una compenetrazione emotiva nascosta, è come se vivesse le tue sofferenze, ma o ha paura di mostrare, le sue, o perché sa che il disegno del destino, ecco, la lancia del destino, nel quale tal caso, deve avere il suo decorso, e quindi, piangendo, ecco, piangendo, prima dell'ultimo offendente, dell'ultimo colpo, il colpo di grazia, dice queste parole testuali, mi raccomando, sii forte, cioè dice, nel momento del trapasso, io sono qui con te, per quello che mi è stato chiesto, però poi quando sarai al trapasso, io ti sto accompagnando dall'altra parte, quindi vedete, ripeto, c'è questa particolare visione, quasi come se fosse all'inizio, un bel impatto, perché tu vedi una chioma dorata, eccetera, eccetera, una splendida donna, e quant'altro, seppur misogina, ripeto, però poi ti rendi conto, che fa parte di un destino, per certi versi sarcastico, beffardo, ed è quindi molto più, diciamo, insistentemente legata, più ad un trapasso emozionale, oltre che fisico, soprattutto emozionale, che ad una vera e propria realtà, diciamo, presente, quotidiana, e che fa ben sperare per il futuro. l'artista esistenzialista, buona serata a tutti.